Come settore femminile, come molti altri, abbiamo dovuto interrompere l'attività i primi di marzo senza salutarci perché ovviamente non sapevamo le tempistiche dello stop e quindi abbiamo fatto una prima settimana di stop completo per dare la possibilità alle ragazze di riposare. Poi quando abbiamo iniziato ad avvertire che il lockdown sarebbe stato prolungato e che quindi non avremmo potuto accedere alla palestra ancora per molto tempo, abbiamo deciso di iniziare a fare gli allenamenti di squadra utilizzando la piattaforma Zoom, allenamenti di tipo principalmente fisico e qualche lavoro tecnico di ball handling con la palla, allenamenti che avevano sia degli obiettivi ovviamente di lavoro fisico individuale ma principalmente lo scopera quello di tenere vivo il morale e poter stare anche se virtualmente comunque tutte quante insieme. Facevamo parecchi allenamenti settimanali perché più o meno riuscivamo sempre 3-4 volte a settimana a riunirci e poi avevano dei programmi individuali da svolgere in autonomia. Per quanto riguarda invece la ripartenza, proprio in questi giorni siccome il sentore è quello che a breve verso metà maggio, fine maggio ci sia la possibilità di riniziare stiamo provando ad organizzare non con poche difficoltà perché ovviamente c'è l'ostacolo della sicurezza, ci sono le esigenze di staff, degli allenatori, le esigenze dei ragazzi, dei giocatori che comunque devono svolgere delle videochiamate per la scuola e quindi in questo momento stiamo provando a riorganizzare l'attività per poter ripartire il prima possibile ovvero appena ci viene data la possibilità. Ovviamente il lavoro sarà individuale, alterneremo del lavoro tecnico a del lavoro atletico e niente sicuramente sarà, come è stata un'occasione questa comunque per lavorare da un punto di vista fisico, quella che si prospetta per i prossimi mesi, anche lì non sappiamo, non si può sapere per quanto durerà, ma ci sarà la possibilità di fare dei progressi tecnici individuali che sicuramente gioveranno all'atleta e sempre in attesa che ci sia la possibilità un domani, anche lì non si sa quando, di poter fare, ritornare a fare dei veri allenamenti di squadra giocati.